Ciao Gargiuli, dalla SMT, questo è il nostro primo vlog e siamo emozionati per questo. Non so quasi cosa dire, senza ti che mi supporta non so veramente cosa dire. Ma comunque, tagliamo tutti i convenevoli, cagate varie, andiamo subito al punto. Primo punto. Primo punto. Primo punto. Abbiamo inaugurato, anzi, vogliamo inaugurare e abbiamo già inaugurato una nuova serie che si chiamerà Camscope by SMT. Quindi, la Camscope con sé, innanzitutto, è una videocamera sul fucile, ha uno zoom elevato, di solito un x11x12, che permette di vedere meglio le kill. Comunque, per vedere il video, il primo video che abbiamo fatto, quindi dobbiamo ancora migliorare. Cliccate sulla testa di Emma. Ok, me lo metto proprio qua. Qua, cliccate qua. Cliccatemi addosso. Cliccatemi tutto quanto, cliccate. Mamma. Che se lo metto? Sono una migliaia adesso, eh. Blobbers. Te la vedete, te la vedete, Edoardo? Minchia, non si può dimenticare. Ah, torno dopo, torno, mamma, tranquillo, non torno tardi. Ok? Ciao, mamma. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte, buonanotte. Ciao, 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 ciao. Secondo punto, i fucili. Esatto. Ci chiedete spesso, ci arrivano messaggi su Facebook, ci arrivano messaggi su YouTube, ci arrivano commenti un po' di meno, ma molta posta. Ci chiedete spesso chi modifichi i fucili, dove compatti i fucili, i fucili sono originali. Mi conviene cambiare la canna interna, mi conviene cambiare il bumbino PAP. Rispondiamo tutte queste domande di supervelocemente. Chi ci prepara i fucili ci prepara il nostro meccanico T, meccanica preparatoria, ovviamente. Che oggi non c'è appunto perché sta preparando un fucile di un nostro collega di... Per oggi scusato, soltanto per oggi però, eh. Un altro malato di software. Quindi, volete sapere come modifica un fucile, chiedete, mandateci una mail, fate quello che volete, chiedete, noi rispondiamo. Noi chiediamo, rispondiamo e non è un problema. Secondo punto, dove compriamo i fucili? I fucili compriamo da un motosito sanmarinense. Sì, dei soliti due o tre. E non le possiamo dire per la pubblicità col cazzo che l'è. Vabbè, i soliti. Comunque, sempre guai, a San Marino c'è sempre i guai, no? Terzo punto, i fucili sono originali? Sì e no. Cioè, quando li compri sì, poi no. Sì, poi no. Le recensioni che facciamo, le facciamo di un fucile originale. Sì, non sempre. Poi raramente abbiamo un fucile originale in game. I soliti li cambiamo tutto quanto. O se, proprio lo step base, li cambiamo la cam interna e il gommino pop. Perché i soliti fanno cagare il pifero. Quindi, quarto punto. E la parte centrale del vlog è che noi, domenica 18 maggio, saremo a Nobrego, alla fiera... A Nobregro. Dove ci sono i negri? No. No, no, no. No, ce n'è solo uno. È solo uno. Ok, niente. Nuovo. Saremo alla fiera del Softer e della Militaria. In Italia. No, Militaria è perfetta. Ok, vabbè. Militaria del Softeri. Soffiteri. I Soffiteri. Quindi... E niente, noi saremo là, ci saranno anche tante persone. C'è un botto, ci sono un botto di persone con un botto di YouTubers super famosi. Quindi, volete venire? Venite. Anzi, avete una mezza idea se venire o no? Venite. Cioè, è veramente un posto che... Che vendono, i preparatori super professionisti. Sì, sì, sì. Parliamo un po', vi divertite, sparate un po', vedete le nuove fucile. Eh, ce l'ha venire. Una volta nella vita, se vi piace il Softer, ce l'ha venire. Se siete in zona, fate un salto. Se non siete in zona, venite a fare un salto. Basta. Ora, ora, l'ultima cosa, l'ultima cosa. Se ci volete tanto bene e venite alla fiera, io vi regalo questa patch. È giusto, sì, è questa patch, ma solo una. Per il primo, che verrà da noi e urlerà la telecamera tutta la fiera, Biru. Devo urlare il Biru. B-I-R-U. È esattamente così. Dovrà urlare il Biru ad alta voce, con la telecamera ambientata in faccia. E vi regaleremo la patch della SMT, che è l'ultima, perché poi ci sarà una nuova edizione. Più figa, ovviamente. Questa è nuova anche per me. Questa non lo sapevo neppure io. È una cosa che mi ha gustato un poco. Quindi, faremo video con la videocamera e con la GoPro. Me la piazzerò in testa per 6 ore, quelle ore che saremo lì. Me la piazzo in testa e non me la tolgo più. Quindi avrò... Avremo un bel video da fare. Sì, appunto, questa è la postazione dove io edito doppio schermo i vari video. È un video figo, doppio schermo. Tanto video è scarsa a fare. Ah, beh, sì. Bella saghetta. Comunque, credo che sia tutto. Esatto, ci vediamo il 18. Se non ci vediamo il 18, ci vediamo nei prossimi video. Ciao, Gargiulli. Cercatevi di dire il 18, perché se no, ricordatevi, T vi castiga. Vabbè. Se vi piace, fatevi castigare. Se non vi piace, vi castiga. Vabbè, dopo vi piace. Boh. Da M è tutto, da S è tutto, T sta lavorando tutto. Ciao ragazzi. Ciao, Gargiulli.